ciao a tutti facciamo un po di movimento oggi allora vediamo ce l'avete le mani ce l'avete quante ma quante ne avete e mani mani movi le mani mani movi le mani 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 movi le mani le mani 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 movi le mani mani nuovi le mani mani ce l'ho piedi piedi ti avete portati quanti due e piedi piedi nuovi i piedi piedi nuovi i piedi piedi Muovi i piedi, ma i piedi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi, muovi i piedi, i piedi, i piedi, muovi i piedi, ma i piedi, i piedi ce l'ho. E le braccia, braccia, ce l'avete? Quante? Due di nuovo. E braccia, braccia, muovi le braccia, braccia, muovi le braccia, 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 brac Ce l'ho. La testa, i capelli, ce l'avete? Pelli, pelli, movi cappelli, pelli, pelli, movi cappelli, pelli, 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 pe gambe 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 mobile GAMBEE Wildlife e occhi due occhi occhi muovi gli occhi gli occhi muovi gli occhi gli occhi muovi gli occhi ma solo gli occhi gli occhi muovi gli occhi gli occhi muovi gli occhi gli occhi muovi gli occhi ma solo gli occhi ce lo e niente 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 non muovi niente niente non muovi niente non muovi niente ma niente niente. E' tutto. Tutto, tutto, muoviti tutto, tutto, muoviti, tutto, 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 muoviti, tutto, tutto, muoviti, tutto, tutto, muoviti, tutto, ma tutto, tutto ce l'ho. Ciao, ciao.